ciao ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio canale youtube dopo una piccola pausa per mancanza di prodotti parkside oggi torno a leggere il volantino nel quale troviamo tante novità in realtà sono circa 40 prodotti ma già massimo che come sempre ringrazio mi aveva mandato l'anteprima con tutti i link quindi sono delle cose che in italia non avevo mai visto e questo è il volantino con l'uscita comprese fra il 28 agosto e 3 settembre 2023 ci sono tante cose anche per l'elettricisti se vi piacciono questi argomenti andate a guardare l'ultimo video che riguarda la pinza green patrice per i puntalini ora mettiamo il volantino sul bancone e leggiamolo e allora andiamo quindi a pagina 16 del volantino lunedì 28 agosto 2023 gli articoli sono tantissimi molti già ve li ho recensiti quindi cercherò di essere più sintetico possibile il primo articolo che troviamo in alto sulla sinistra al costo di 89 euro e l'avvitatore compreso di due batterie un caricabatterie da venti volte le mie x 20 v team questo è l'avvitatore il verdone quindi quello da 45 di un metro di coppia che a due velocità la prima arriva a 430 giro al minuto la seconda 1500 è una frizione che ci permette di regolare la coppia più un livello per poter forare come avvitatore dipende dalle versioni ha avuto del periodo in cui non è stato proprio il massimo ma diciamo che nella maggior parte delle volte questo tipo di avvitatore è più che sufficiente per un utilizzo hobbistico anche avanzato però è un avvitatore non è un trapano permette di forare sul legno su muri morbidi ma non avendo la percussione non riesce a forare sul muro in pochettino più resistenti andate a guardare il video perché l'ho recensito in diverse versioni questa invece la pistola termica a costo di 17 euro e 99 dotata anche di diversi accessori per svolgere diverse funzioni infatti questo tipo di pistola si può utilizzare sia per formare termicamente delle pellicole adesive si può utilizzare per staccare degli adesivi oppure per sverniciare ma anche per accendere il barbecue per tantissimi scopi addirittura anche come diserbante assorbe 2000 watt e la regolazione della temperatura ci permette di gestire fra 350 e 600 gradi il flusso d'aria di conseguenza regolabile anche da 330 a 500 litri al minuto questa invece la fresatrice per scanalature che si utilizza per fare delle tracce come se fosse una smerigliatrice angolare per capirci che a due dischi ad una distanza di circa due centimetri che ruotano contemporaneamente in modo parallelo lasciando due linee sul muro e quindi ci permette poi di rompere la parte che rimane fra le due linee per avere una traccia e quindi passare canalina eccetera eccetera diciamo che un utensile più da muratore o per chi sta ristrutturando casa in autonomia a una protezione automatica da sovraccarichi la larghezza della scanalatura a scelta fra cinque misure quindi tra 8 e 26 mm è una profondità della scanalatura da zero fino a 30 mm il numero di giro vuoto e di 9.000 al minuto dell'assorbimento 1500 watt penso che avere il prezzo di 89 euro possa essere una buona soluzione per chi sta facendo dei lavori di ristrutturazione facciamo un poco di ombra per permettervi di vedere pure questa parte dove troviamo un set di punta o scalpelli per trapano a percussione che hanno l'innesto sds plus costeranno 12 euro e 99 e sono sia punta scalpello che punta perforare poi a fianco troviamo delle lame per sega di immersione al corso di 9 euro e 99 con un diametro di 89 mm è un numero di giri massimo di 17.000 al minuto queste sono delle mole da taglio invece diamantata con un massimo numero di giri consentito di 12.500 è un diametro di 125 mm al corso di 4 euro e 99 andiamo alla pagina successiva e troviamo la stazione di saldatura non digitale quindi quella stazione di saldatura che già vi ho recensito che al tastino di accensione spegnimento e poi una manopola per poter regolare la temperatura come se fosse un saldatore stilo standard che si collega direttamente alla presa ma ci permette di avere la spugnetta per forzare e pulire la regolazione della temperatura invece gli altri tipi di saldatore collegate alla spina e vanno direttamente al massimo inoltre c'è il sostegno e poi troviamo pure due rocchetti e una punta di ricambio costa solo 9 euro e 99 quindi non avrete uno strumento professionale qualche piccolo difettuccio può starci così come può starci che il cavo sia leggermente rigido eccetera però per fare dei lavori da hobbista poter riparare qualcosa ogni tanto secondo me è uno strumento valido da quest'altra parte troviamo invece una pistola stura tubi a pressione a costo di 12 euro e 99 con diversi accessori in poche parole si ricarica quindi si aziona dove che si rilascia e questo concentrerà un flusso improvviso che potrà scurare i tubi però fate attenzione perché questo tipo di stura tubi potrebbe anche staccare alcuni innesti idraulici per esempio sotto il piatto doccia eccetera quindi utilizzatelo con cautela che potreste risolvere l'ingorgo ma causare un altro danno questi invece sono la pinza e il multimetro a penna questa è una pinza amperometrica che già vi ho recensito e questo è il classico multimetro che mi avete visto utilizzare diverse volte costeranno 14 euro e 99 ciascuno e anche di questi anziché farvi una descrizione adesso vi lascerò il link giù nel primo commento e nella descrizione così come per il misuratore di temperatura di infrarossi che sarà scontato anziché 19 euro e 99 costerà 12 euro e 99 con il 35 per cento di sconto andate a guardare tutte le caratteristiche questo è un tester digitale per batteria vi permette di controllare l'attenzione della batteria senza carico ovviamente quindi vedere quale sia ancora la tensione residua la carica residua così come fareste utilizzando un normale multimetro però vi permette posizionando la batteria all'interno dei contatti di leggere rapidamente utilizzando due mani con facilità invece come vi ho dimostrato nella recensione utilizzando normale multimetro bisogna toccare due poli con la batteria che va rotolando sicuramente è più pratico questo costa 4 ore 99 ma posso assicurarvi avendolo da tanto tempo che mi ha fatto recuperare tantissime di quelle batterie che già si è ripagato da tempo ma rimanendo in ambito di tester qua troviamo altri strumenti quindi un tester elettrico di tensione senza contatto è un lancerca satellite oppure tester per prese questi due le ho già recensiti quindi il tester senza contatto si utilizza per vedere quale cavo sia sotto tensione o meno quindi ci facilita il lavoro mettendo delle luci bip eccetera questo invece serve per capire se l'impianto è stato fatto correttamente quindi in base a come si accendono le luci sciderà per esempio la presenza della terra eccetera eccetera quindi andate a guardare anche per questo perché complesso interessante ma complesso da spiegare e cerca satellite grazie alla rangetta ci dirà per esempio se c'è banda ma questo non l'ho mai utilizzato quindi non so parlarvene questo è un rilevatore multifunzione che dovrebbe permettere dico dovrebbe perché questa versione non l'ho mai provata ma comunque trovate il link della versione precedente in teoria sembra che sia cambiato solo il colore comunque dovrebbe permettere di trovare la presenza di legno e qualche altro materiale tipo metallo sotto le superfici per evitare per esempio che forando con il trapano si vada a beccare un tubo quindi foranno anche quello questo invece il misuratore di umidità a due contatti funziona come un multimetro quindi calcola l'umidità calcolando il passaggio della corrente fra un puntale e l'altro e quindi ci dice se il legno per esempio è buono per poter essere utilizzato per sempre produrre il pelletto tante altre utilizzi nei quali è necessario che la percentuale di umidità all'interno abbia un valore ben preciso questa è la guarnizione invece per porta e finestra quindi il classico adesivo che si mette attorno agli infissi per evitare di avere spifferi e questo invece un paraspifferi che si mette alla base dotato anche di setole e sono entrambi adesivi girando pagina però troviamo gli articoli più interessanti comunque quelli nuovi quelli che io personalmente almeno della lidl non avevo mai visto che si tratta di utensili per elettricisti isolati quindi degli utensili che ci permettono di svolgere quei lavori dove c'è il rischio sia di prendere la scossa oppure di creare cortocircuiti per esempio se stiamo lavorando su una batteria perché si occupa dei montaggi di pannelli solari batterie eccetera eccetera quindi i vari pacchi batterie affiancati se dovete stringere con un cricchetto rischiate mentre state stringendo di toccare un polo e poi con l'estremità magari dell'impugnatura andare a toccare un altro polo e in quel caso si crea un cortocircuito si può danneggiare qualcosa ma potete anche farvi male quindi questi strumenti hanno un rivestimento che li proteggono fino a ben mille volte in questo borsone troverete tre pinze e un set di cacciaviti più un cutter lo spella fili sia quello classiale che lo spella fili normale un cerca fase è ovviamente incluso anche lo stesso borsone costo di 89 euro diciamo che se voi comprate separatamente questi strumenti pagate su per giù la stessa cifra infatti da questa parte abbiamo le stesse pinze che costano 18 euro ciascuno moltiplicate per 3 aggiungete 8 euro di questi cacciaviti super giù raggiungiamo quella cifra tra l'altro le cacciavite che io utilizzo ormai da tempo li ho utilizzati sfruttati ma non solo questo sono tutti maltrattati sfruttati utilizzati sia per lavori di elettricità che per tanti altri tipi di lavoro addirittura marchiate ancora power fix nonostante i maltrattamenti ancora hanno l'intaglio praticamente quasi perfetto quindi le cacciavite che io consiglio perché io mi ci sto trovando bene possibilmente un professionista che deve utilizzarlo tutti i giorni allora ci trova magari il difettuccio io non mi posso lamentare poi troviamo comunque questo cricchetto anche con delle bussole ovviamente adeguate al tipo di lavoro che si deve fare in ambito elettrico anche questa protetta fino a mille volte costo di 27 euro e 99 delle pinze ne abbiamo già parlato per quanto riguarda il prezzo non vi ho detto le varie funzioni quindi questa è una pinza con i becchi stretti questo è un tronchesino questa è una pinza classica però all'interno dove di solito si tronca quindi dove c'è la parte tagliente c'è una scanalatura che ci permette di utilizzarlo come spelafili queste invece sono delle pinze che si possono acquistare scontate se avete l'applicazione lidl plus con il 25 per cento di sconto anziché 7 euro e 99 ciascuno 5 euro e 99 anche questo con lo stesso tipo di protezione sono diversi tipi di pinze tronchesini più un coltello per tagliare i cavi questi cacciavite che vi ho fatto vedere poco fa 7 euro e 99 8 pezzi quindi un euro ciascuno ripeto non sono prodotti professionali ma io mi ci trovo meravigliosamente e questi sono dei cacciaviti diversi perché sono dei set che ci permettono di avere sia i classici cacciaviti in questo modo dotate anche di tronchesino oppure questo il savonale quindi si può utilizzare con diversi tipi di viti e bulloni tutto sempre isolato questo riguardano montaggio e smontaggio da questa parte invece abbiamo quello che serve per fare le varie giunture quindi queste sono spellafili questo per esempio di colore nero e per rimuovere la guaina dai cavi isolati a parete sia spessi che sottili quindi si utilizza in poche parole tirando arretra una parte con delle lamelle spella e filo quindi ci permette poi di collegare capi corda fastone eccetera questa invece per i cavi di dati quindi il trasferimento dei dati sia telefonici a nastro oppure quelli coassiali questi sono tronchesino oppure spellafili oppure utensile per terminale lsa quindi in base al tipo di lavoro che dovete fare avete l'imbarazzo della scelta e qua arrivano invece dei set diversi a parte le guaine o guaine termorestringenti che già sono uscita più di una volta ma questa volta hanno delle colorazioni differenti e io questo te l'avevo comprato su internet perché a fare l'impianto della mia auto li ho trovati molto comodi perché hanno degli spessori differenti anche il colore differente aiuta quindi troviamo pure dei morsetti termorestringenti dei tipi di morsetti sinceramente alla foto non capisco come siano però se leggiamo la didascalia vediamo che c'è scritto la scelta tra connettori di testa per cavi o retrattili fascette per cavi guaine termorestringenti oppure morsetti da quest'altra parte invece troviamo una carotatrice che serve per praticare i fori a muro con delle punte particolari a tazza e lavora sia con l'acqua che a secco questo poi dipende dal tipo di strumento che utilizzerete ricordatevi che la qualità del risultato finale dipende sempre dallo strumento che utilizzerete con questo trapano un impugnatura che si può mettere in tre posizioni differenti e troviamo anche degli accessori tra cui questa parte che si poggia nella spalla un cacciavite e poi delle spazzole di ricambio a costo di 129 euro anche questo non è uno strumento che si compra per hobby chi lo compra è un professionista oppure qualcuno che deve fare dei lavori in casa che coglie l'occasione la palla al balzo e si fa dei lavori senza dover chiamare per forza un professionista perché questo gli permette di farseli in autonomia questo invece è un adesivo collegante a base di gesso un chilo e mezzo e costerà 3 euro e 99 poi in basso rimanendo sempre in tema troviamo una spatola un frattone un miscelatore per intonaco e colore questo tipo di spatola per esempio già velo recensita così come questa e sono strumenti straordinari che costano pochissimo ma che hanno un'infinità di funzioni ragazzi non fatevelo a scappare nastro isolante di diverse colorazioni 8 metri 6 pezzi 3 euro e 49 devo dire anche conveniente quanti da lavoro unisex 9 euro 99 poi ci sono queste ciabatte compresa multipla 8 euro e 99 sia quelle piccole due pezzi al prezzo di 8 euro e 99 oppure questa più grande un solo pezzo alla stessa cifra un avvolgicavo da 5 metri anche questa scontata così come i pennelli ma questa 27 per cento di sconto quindi da 17 euro e 99 12 euro e 99 e a quattro prese sciuco un impugnatura ed è comoda perché si può riavvolgere con facilità evitando di avere matasse fra i piedi e questi pennelli invece anziché 2 euro e 99 col 33 per cento di sconto vengono un euro e 99 nell'ultima pagina per il super weekend quindi da venerdì 1 settembre fino al 3 settembre troviamo il faro led da esterni con sensore crepuscolare e rilevatore di movimento ruotabile e inclinabile questo però meccanicamente quindi non ha un movimento automatico anche questo scontato del 34 per cento anziché 22 euro e 99 cosa sarà 14 euro e 99 e ora posso respirare ragazzi io ho finito grazie di aver visto il video fino in fondo vi invito ad iscrivervi nel mio canale guardate il video che riguarda la green patricia la pizzettina che in patria perché interessante grazie di nuovo a massimo per il link non mi rimane che invitarvi ad iscrivervi al canale mettere mi piace cliccando sul pollice all'insù cliccate anche sulla campanella dove essere iscritto e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto